Se ami la creatività in cucina e vuoi essere sempre originale in famiglia e con i tuoi amici, se cerchi un'alimentazione leggera, nutriente e soprattutto che ti dia energia, fai bene e il Raw Food può darti tutto questo. Lo trovi nel mio corso completo di una sola serata tenuto da Serena Babbo, Raw e Vegan Chef. Con il corso di Raw Food centinaia di persone hanno riscoperto la creatività in cucina e un livello di benessere molto alto e molto stabile. Non ti troverai più confuso dal fai da te a fare sempre le stesse ricette, cucinare le stesse verdure senza sapere cosa mangiare per sentirti leggero o come sostituire le proteine animali. Conoscerai le basi di cucina e di nutrizione Raw, i segreti per cucinare crudista in modo semplice, veloce, facile da imparare e con ricette che piacciono a tutti. Iscriviti subito e ci vediamo al corso naturalmente!